Un cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi con atletica, calcio, motori e rugby. Apriamo con l'atletica perché la notizia delle ultime ore è sicuramente la convocazione di Dea Pieroni con la Nazionale Azzurra che parteciperà alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. La notizia è davvero bellissima. Dea Pieroni della Virtus Casta di Risparmio di Lucca è stata infatti convocata con la Nazionale Italiana che parteciperà alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. La quindicenne atleta barghigiana difenderà i colori azzurri nella gara del salto in alto dove si fregia anche del titolo di campionessa italiana allieve. Ricordiamo che nel corso di questo magnifico 2018, Dea, allenata da Luigi Cosimini e Vinicio Bertoli, si è confermata di gran lunga la migliore saltatrice italiana a livello giovanile e ha conquistato anche un brillante quarto posto ai campionati europei di Ghior. Inoltre si è migliorata in modo costante anche sul piano delle prestazioni salendo fino a 1,79 ma denotando ampi margini di miglioramento sorretta com'è da una stupenda tecnica e da un grande fisico. Dopo Singapore e Naging toccherà dunque a Buenos Aires accogliere i giovani atleti dai 15-18 anni provenienti da tutto il mondo per celebrare i giochi più belli dal 6 al 18 ottobre. Ci sarà anche la nostra Dea Pieroni e siamo convinti che potrà regalarci ancora delle belle soddisfazioni. Speriamo sia proprio così, abbiamo grande fiducia in questa giovane e promettente atleta. Passiamo al calcio alla Lucchese. Il campionato è ancora lontano, come sapete inizierà il 16 settembre, la squadra rossonera prosegue nella preparazione tra amichevoli e anche mercato. Prosegue il lungo periodo di preparazione per il campionato per la Lucchese ma così anche per le altre squadre. Il torneo 2018-2019 inizierà solo nel weekend del 15-16 settembre, sabato 8, finalmente calendario. Intanto dopo aver vinto il memoria al Mauro Marchini a Castelnuovo la truppa rossonera è tornata subito al lavoro con una doppia seduta martedì allo stadio Porta Elisa. Favarin sta provando le varie soluzioni tattiche anche per quanto riguarda reparto avanzato dove il ne è arrivato, il croato Jovanovic, da cui si attendono belle cose, si sta inserendo poco alla volta. Naturalmente tutto ciò considerando che il mercato di Serie C è stato prorogato fino a venerdì prossimo e quindi Obedio, che si trova a Milano, potrebbe regalare al tecnico rossonero qualche altro buon elemento. Uno su tutti è Gianmarco De Feo, 24 anni che ricorderete, due anni fa nell'attacco stellare con Forte, Terrani e Fanucchi. De Feo collezionò 34 presenze e ben 9 reti. Ebbene l'estroso attaccante Bolitano, che nell'ultima stagione ha trovato poco spazio all'Ascoli, sarebbe ben felice di riproporsi a Lucca. Ma gli ostacoli non mancano, vedremo se Antonio Obedio riuscirà a superarli con la proverbiale abilità e a riportare De Feo alla Lucchese. Ancora per la Lucchese c'è la notizia dell'ultima ora, ovvero l'amichevole di mercoledì pomeriggio alle 17.30, lo stadio 19 settembre di Pietrasanta, contro lo Sporting Pietrasanta, formazione di prima categoria. Quarta giornata al settembre lucchese, parliamo di calcio giovanile, prestigioso e storico torneo nella categoria lievi da registrare il successo del tau calcio, che ha battuto per 2-0 il margine coperta, spettacolare, ricco di rete anche il derby versiliese, con il Seravezza che si è imposto sul Camaiore per 4-3. E sempre a proposito di calcio giovanile, tutto pronto in casa tau per la presentazione della nuova stagione, che si aprirà mercoledì sera alle 18.30 allo stadio di Alto Pascio, con la presentazione delle 32 squadre che compongono la Galassia Maranto. ospite d'onore, lo vedete in questa foto, il noto tecnico Gigi Simoni, che appunto sarà sicuramente il punto di riferimento a fare gli onori di casa. Ci sarà poi il presidente del tau, Antonello Semplicioni. Siamo al podismo, parliamo della non-edizione del trofeo Appennino Tosco-Emiliano. 9 chilometri per la non-edizione del trofeo Appennino Tosco-Emiliano, svoltosi all'interno e nel verde del Parco Naturale dell'Orecchiella. Siamo nel cuore della bella Garfagnana e spesso le immagini sono emblematiche ed eloquenti, più di ogni altro pur dettagliato commento. Gara podistica interessante che si è sviluppata in una giornata tutt'altro che stiva, almeno a queste altezze. Tra l'altro la manifestazione, giunta alla non-edizione, intende ricordare la figura del dottor Umberto Poggi, fondatore del Parco dell'Orecchiella, nonché per molti anni alla guida del Corpo Forestale Regionale. Insomma, una figura di spicco che in questa zona ha lasciato una traccia importante. Sul piano tecnico, oltre un centinaio, gli atleti al via, anche giovanissimi, che si sono battuti con piglio ed ardore. Qui vediamo la partenza della mini-run riservata appunto ai bambini e alle categorie giovanili. Tre grandi erano di scena invece le categorie che vanno dagli assoluti fino ai veterani. Gara davvero tecnica ed interessante, come dicevamo, che ha visto il dominio del giovane Ghirma Castelli, del gruppo sportivo Orecchiella, che ha impiegato 28 minuti e 40 secondi per coprire la distanza e ha preceduto di 14 secondi l'Arcigno Alessandro Donati del Panaria Gruppo. Terzo gradino del podio a 58 secondi dal vincitore per Marco Guerrucci, altro esponente dello squadrone Garfagnino. In campo femminile, affermazione di Alice Vecci, ancora Orecchiella. Da aggiungere tra i veterani, la stupenda prova di Stefano Ricci dell'Atletica Vinci, che ha chiuso addirittura sesto assoluto. Determinazione e passione, forte di queste doti, Stefano Mango prosegue la sua straordinaria avventura nel motociclismo paralimpico. Il trentenne pilota lucchese ha gareggiato al Mugello nella seconda gara dell'International Bridgestone Andy Race, categoria 600. Hanno accompagnato il motociclista e Mugello, lo vediamo in questa foto, il presidente di Diversamente Disabile Emilio Malagoli e il presidente di Lucca Senza Barriere Onlus, Domenico, passa l'acqua. Si è aperta ufficialmente con il tradizionale raduno e il primo allenamento, la stagione del rugby Lucca. La squadra agli ordini di mister Giovannico ha iniziato la preparazione in vista del campionato, che la vedrà ancora una volta tra le favorite per la promozione nella Serie C Elite, quella nazionale. La grande novità è rappresentata anche dal nuovo direttore sportivo, che sarà il tecnico della formazione Under-14, Andrea Marchi. A lui l'onere e l'onore di guidare la crescita a livello qualitativo della società. Ricordiamo che il primo impegno ufficiale per il rugby Lucca di Andrea, del presidente Andrea Lombardi, sarà il Memorial Bernardo Romei, una manifestazione alla quale per ovvi motivi la società tiene tantissimo, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, che si svolgerà negli impianti sportivi dell'Acquedotto il 15 e 16 settembre. Con la palla ovale si chiude anche la pagina sportiva del TG Noi, in una breve pausa e subito dopo il telegiornale prosegue con la terza ed ultima parte.